apriamo chiudiamo questo video non si capisce niente con berserk questa bomba è la deluxe edition 50 euro è un recupero da fare per un motivo essenziale facciamo i seri per un motivo essenziale perché berserk è uno dei quei pochi manga che in italia sono sempre usciti in versione occidentale e quindi finalmente la panini ci delizia con questa deluxe in versione manga infatti come vedete questo è sinistra e qua è destra perciò se leggiamo da qua e apriamo dovrebbe dovrebbe iniziare il manga copertina nera e come la parte bianca e bobo che è successo che è successo allora qua rimane dritto qua c'è qualcosa di strano ma poi ma poi ma poi ma poi aspettate fine è finita l'incontrario in una situazione molto capovolta così se invece non giriamo a 360 gradi il manga inizia quindi copertina nera e alla fine mi trovo un manga non manga cioè ma come si si legge si legge da questo lato a questo stranger things dopo dopo questo voglio concludere con il fatto che da anche da lavoratore da fumettaro ho contattato la panini dicendo del discuito che c'è stato e mi hanno risposto ma guarda che berserk in questa versione si legge all'orientale non all'occidentale ah lei del mestiere va bene poi ho mandato le foto e ha detto ah ok ok allora è autorizzato arreso 50 euro spesi tantissimo e mo aspettiamo l'altra versione e il video va buon ciao a chiù benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo video anzi in quest'ultimo video dell'anno sui miei acquisti ringrazio a tutti per il supporto dato alla nostra attività commerciale ai nostri video cambierà qualcosa nel prossimo anno sicuramente non sarà questo il video in cui ne parlerò però seguiteci sempre se il video esce che mi vedo sfocato ok più o meno allora ho il saccoccio sono ritornato in fumetteria a posto per fare quest'ultimo video per chiudere raga tenetevi sempre stretta la vostra passione e coloro che sono collegati alle vostre passioni supportatele e supportate sempre nel modo più corretto e che può dare che non fa male agli altri volontariamente per tutto il resto divertitevi giocate passate un buon anno delle buone feste seguiteci sui nostri social perché se siete delle nostre parti potete venire a festeggiare con noi tantissime offerte tantissime promozioni o dei fogli da parte c'è pure la lotteria il fumettano proprio la fantasia e queste allora partiamo con un fumetto che non so quando lo inizierò a leggere mi sono fermato al 3 il formato e massiccio è un dispiacere però sicuramente siamo all'ottavo numero quando andremo alla fine o quando veramente finisce il manga smetterò la leggerò e poi vediamo perché il fatto che mi ispira troppo la la sceneggiatura di totto stone e i disegni di one punch man quindi murata e inaga inagaki tanta roba per il formato panini questo formato panini che veramente inguardabile poi che cacciamo ancora un altro fumetto che pure questo aspetterò che finisce per leggerlo sa nella conclu penso che sarà in conclusione in giappone sono parlato di mashon o magic ed mascol o magie muscoli di ajime komoto della star comics che piccola parentesi da star comics da gennaio a metteranno i prezzi dopo cinque anni farà un bello una bella alzata di prezzi però siamo quasi sicuri che resterà nel lungo periodo a differenza di altre case editrici detto questo mashon è un fumetto che partito con una bell'idea tra one punch man e ripotter ma poi si è appiattito comunque anche one punch man ha quel problema il personaggio principale è assurdamente troppo forte e non c'è più altri collegamenti da fare se non con i personaggi secondari ma poi diventa un po moschetto night man item anche questo aspetterò la sua conclusione e demo slayer il l'official character book devono essere tre volumi e anch'esso aspetterò perciò queste sono le parti o i fumetti che aspetterò che finiscono per recuperarli sempre se non mi esce qualche ingrippo prima allora come numero uno vi vado subito a consigliare trillion game non lo so se l'ho già fatto ma è un'altra occasione per consigliare questo duo fichissimo ho disegnato da rohichi kegami e richiro i nagaki la storia anche la storia è la stessa che di quella che ha creato ai shield e allo stesso tempo è la stessa di rotto stone figo ma che ho unito l'attive puntini ero rimasto più sui disegni di sanctuary fichissimo comunque è un manga che a me piace lo continuerò a forza i disegni sono fichissimi e la storia che mi attrae perché è molto imprenditoriale ovviamente super giapponese a differenza di che ne so wolf street di di caprio che strettamente americano poi poi che cacciamo di bello cacciamo un po di simpatia con sakamoto days comunque copertina assurda e fumetto veramente figo e ci ho visto bene a interrompere la via del grembiule al numero 2 slash 3 e a continuare perché al quarto numero di sakamoto bello shonen molto molto interessante anche questo al difetto spesso è uno spese spese mushol o one punchman però secondo me è fatto un po più interessante non troppo esagerato più o meno e no e forse giro tutti sui tre vediamo se non mi stanca mettiamo questo questa opzione mentre andate da log è quello sembra quando ci sono tutti i fumetti belli e all'epoca Bleach per dire non è stato visto così tanto d'occhio rispetto a One Piece Naruto e pure Anderick Sande se lo vogliamo mettere cioè buon occhio forse perché non ha mai avuto un anime continuo o pubblico su canale 5 Italia 1 in quel senso Anderick Sande secondo me ha tante qualità non ci trovo troppi difetti forse più che Bleach si avvicina molto a Codebreaker o perché vabbè mai bestemmiare cioè non è per quanto è figo mai quello che mi ha dato Bleach però però si avvicina perciò poi è il risultato che fa la somma o la somma che fa il totale come disse il buon Antonio De Curtis poi 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 che abbiamo ah questo che non avevo trovato nella vecchia nella precedente puntata queste sono le short story degli autori di Propized Neverland Kaiju Shirai e i disegni di Posuka De Mitsu e sono quattro storie veramente fighe a me sono piaciute tra Boichi e le storie conclusive di Kentaro non c'è storia però sono state simpatiche però dopo aver letto Boichi come l'ho letto anche insieme a mio amico Vittorio comunque abbiamo trovato una differenza però non si devono fare sempre i paragoni e il fumetto a 60 e tanta roba poi ha tutto il bucretto eccetera eccetera 5,90 euro altrimenti il volume singolo ce lo rimaniamo alla fine questo vediamo abbiamo i due ormai sono infiniti le due versioni di Shangri-La Frontier della Panini sia in quella super figa il bundle expansion sia quello normale e questi li aprirò quando la Panini smetterà di che sono curioso di sapere che c'è oltre alla figata delle due immagini sempre chiaro scuro sono sarei figo sarebbe figo sapere che cosa c'è però aspetto spero che non sia così importante che cacciamo cacciamo Inovaga Crash che è il sequel di Akame Kakil a me piace tra tutti gli altri fumetti che fanno sempre tra Takahiro no soprattutto Takahiro o il filone di Akame Kakil è quello che mi ispira di più rispetto a KG Rejo e simili e simili poi abbiamo abbiamo questo abbiamo detto ce lo consigliamo per ultimo lo svuotiamo qua con Bobom Altag Pop Zombie 100 comunque vi do a leggere un passaggio fighissimo comunque un manga che come ho consigliato a tantissimi e chi lo legge poi si innamora è molto molto interessante e si può paragonare tranquillamente o avvicinare il paragone ad Assassination Classroom comunque voglio leggere questo passaggio che ho che ho fatto anche una storia eccolo qua Astenersi dalla rabbia Kencio è uno dei dieci buoni precetti una sorta di codice di condotta dei pellegrini perché stanno facendo un pellegrinaggio vabbè in un mondo infestato dagli zombie il protagonista si mette a voler fare cento cose che purtroppo per lavori per la vita normale le aveva cancellati dalla sua testa solo lavoro famiglia e basta anzi solo lavoro perciò sta recuperando tutte queste cose tra tutte le cose che vuole fare c'è anche il pellegrinaggio è qua una dei coprotagonisti dice uno Astenersi all'uccidere avere a cuora l'esistenza di tutti gli esseri viventi due Astenersi da rubare non appropriarsi di ciò che degli altri e averne cura tre Astenersi dall'erronea condotta sessuale non intraprendere le relazioni che si allontanino dalla morale 4 Astenersi dalla menzogna dire sempre la verità 5 Astenersi dall'adulare parlare onestamente 6 Astenersi dall'ingiudiare 7 Astenersi dalla slealtà 8 Astenersi dall'ingordigia 9 Astenersi dalla rabbia non serbare rancore ed essere complessivi 10 Astenersi dalla malizia giudicare sempre in maniera corretta se ci fosse stato solo un 10% di questi precetti nella Patti Bari in questa bella Puglia forse non siamo in questa situazione saluto a tutte le community e sono precetti a non dimenticare vabbè sono un attimo divulgando molto molto figo a volte servono anche questi fumetti poi abbiamo un po' di mazzate con Kengan Ashura e Record of Ragnarok che sta succedendo ok yes Kengan Ashura vabbè è sempre il solito picchiaduro ultra assurdo Record of Ragnarok super all'azzurdo perché è molto più figo come sempre ve lo consiglio tantissimo mi stupisce ogni mi sorprende ogni giorno ogni lettura di più tanta roba proseguendo andiamo con un classico che è Fairy Tail o 100 years quest 11 un casino vabbè il fatto che Fairy Tail ha il problema come One Piece 380.000 personaggi solo che Fairy Tail li cambia l'intescambia ancora di più o forse proprio il casino che essendoci Fairy Tail essendoci One Piece 300.000 personaggi poi con tutti gli altri fumetti ovviamente diventa incasinato non segue proprio una linea che dici mi ricordo quei 10 e poi gli altri 50 sono di contorno no qua sono tutti i principali mentre in Tokyo Lanky ho novità molto simpatica secondo me si avvicina molto a Kaiju number 8 è un fumetto che ha tante potenzialità sarà figo vedere l'animazione del sangue dato che questi sono demoni e combattono creano le armi proprio con il sangue interessante come idea belli i disegni la storia vabbè parte sempre come shonen ovviamente non sapendo più che cosa inventarsi diventa molto molto più veloce poi 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 abbiamo che abbiamo che abbiamo abbiamo vabbè non rimaneva il Giappone ma il Giappone è uscito perciò eccolo qua blue lock 16 si devono si devono blue lock dovete fare dei capitoli sui rigori la colpa è stata di blue lock sul Giappone uscito dai dei mondiali se facevano se facevano allenare anche sui rigori forse ci vedevamo una bella semifinale del Giappone poi abbiamo Frieren sempre il solito viaggio fichissimo che prende altre direzioni con tanti altri personaggi molto molto bello questo viaggio di questa ilfa in compagnia delle varie compagnie e poi Goblin Slay fantasy ma mentre uno in maniera molto più scritta tranquilla calma Goblin Slay è tutto il contrario sangue morti goblin uccisioni lo ripetono sempre che è un guaio come mi ha fatto come abbiamo si è notato riprende molto spesso certi certe parti ho già fatte vedere ma questo per continuare a far capire che quel mondo è popolato da mostri malvaggi che non hanno nient'altro da fare che uccidere questi piccoli Goblin poi arriviamo con bella bomba belle bombe allora arte spettacolo finalmente ritorno in Italia o almeno sta ritornando in Italia non c'è ancora arrivata e non è facile ritornare in Italia soprattutto in quel periodo tante guerre soprattutto civili è veramente bello perché rappresenta un'epoca vista poi dagli occhi di una orientale è molto molto interessante come sarà molto interessante il manga che vi sto illustrando adesso Darwin's Incident questo ci devo fare il video sopra però lo devo per forza nominare Shun Umezawa o della D-Night costa 12,90 ma ne vale veramente la pena non è ma ne vale veramente la pena non è come Beastars è proprio il fatto che nel mondo umano perché è molto più diretto e si avvicina molto all'attore di tutti mentre il mondo furri allontanato per quanto Beastars si può avvicinare tranquillamente diciamo alle denunce alle critiche sociali di questo fumetto fumetto molto adulto non è uno shonen più un seinen ma forse proprio un fumetto di critica e veduta sociale 20 century boys numero 9 chapeau questa è recensiva e forza grande Urasawa presa in giro da noi scherzotamente per molto tempo ma grande maestro irreprensibile poi la variant di file force di lucca la a3 bra burst variant e concludiamo con il numero 21 con un kisaki in copertina e un fumetto che fa finire il primo arco narrativo è quello che poi aprirà all'ultimo perché mi sa che sono 31 volumi finiti in giappone tanta roba detto questo spero che ho detto quasi tutto qualsiasi cosa scrivetelo nei commenti o contattateci sui nostri social grazie mille a tutti per il supporto grazie mille a tutti per averci supportato e seguito in quest'anno ci vediamo al prossimo e a domani con un nuovo video bella bella voglio grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti